In nome dei padri, serviti e spirito santi, a me, dopo il primo suo Gesù, a te, con spirito tuo. Per attivare la visione ogni giorno alle 12, in tante parti del mondo, si recita la preghiera Mariana dell'Angeles, una preghiera che compende la stupenda storia dell'infermazione del figlio di Dio, attraverso il sito di Maria, proprio tra le parenti di questa casa di Amnassar. La comunità di noi, di noi, custodi di questo santo luogo, si fa voce di tutta l'umanità e insieme, e per l'intercessione della Vergine di Nazareth, innalziamo la preghiera al Dio fa luogo, per il Santo Padre, per la Chiesa e per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiera. Buona, la Vergine della Lucia del Santo, voce di sono svanto la terra su tutti voi mi presenti, sui pelettini e qui passano la serata, e che vangeno si stendano fino ai confini della terra. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.